Buonasera e bentornati a TGTG. Mentre va in scena la festa del cinema di Roma, noi ne parliamo con chi di Roma è stato sindaco, ma anche della nostra Repubblica, Ministro della Cultura e oggi è Presidente dell'ANICA, Francesco Rutelli. Grazie per essere con noi, buonasera. Buonasera, un piacere. ANICA, cioè Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, ma come sempre, dopo la nostra sigla, i titoli principali dei TG della Sera. Eccoli. In corso il vertice di maggioranza per ricomporre i dissidi con 5 Stelle e Italia Viva. In precedenza un faccia a faccia tra Conte e Di Maio. Convocato per le 21 il Consiglio dei Ministri. In arrivo una lettera dell'Europa che chiede chiarimenti sulla manovra del governo. Manovra a Conte vede i partiti di maggioranza, poi vertice. Consiglio dei Ministri, la Commissione Europea in arrivo richiesta di chiarimenti. Manovra attesa del vertice a Palazzo Chigi dopo le tensioni interne alla maggioranza, si vittano le 21 del Consiglio dei Ministri. Come avete visto, come ha visto il Presidente, le aperture sono sullo stesso tema. Sono sei anni che non si occupa di politica direttamente. Un suo giudizio su questo, glielo possiamo chiedere? Direi che la manovra è obbligata, che l'Europa è obbligata ad accoglierla. Ci saranno dei ritocchi, ma non di più. Allora, a proposito di notizie, quelle che noi portiamo ogni sera, si diceva una volta dei quotidiani, quando stavano per nascere i primi siti di informazione gratuiti. Sarebbero, saranno, spariranno i quotidiani. E poi anche del cinema, con i primi video noleggi e canali via cavo, eppure entrambi resistono. Il cinema come sta oggi e come sarà domani? È interessante spiegare al vostro pubblico che certamente è anche fatto di spettatori del cinema e di fruitori dei film, delle serie televisive, degli altri contenuti audiovisuali sulle piattaforme web, non soltanto nella nostra casa con la Smart TV, dove alterneranno TV2000 e gli altri programmi, e la visione di serie, di film e di altre narrazioni. Beh, al cinema vanno, in Italia, noi speriamo quest'anno di ritornare al numero magico di 100 milioni di biglietti venduti. Che sono tanti. Che è una cosa veramente importante, perché i numeri quest'anno sono positivi, di netta ripresa, ma al di là di questo, quel numero lì è impressionante, pochi di noi lo hanno, io non lo sapevo prima di diventare, essere eletto come presidente dell'industria del cinema. E da poco rieletto, da luglio per il prossimo triennio. Sì, mi hanno rieletto per altri tre anni, non mi si vogliono togliere dai piedi. Non sapevo che le visioni di un film che avvengono al cinema sono appena il 2% delle visioni totali. Probabilmente le visioni totali di un film si avvicinano a 5 miliardi in Italia in un anno. Quindi la vita di un film è molto lunga. Perché naturalmente i film li vediamo in TV, li vediamo sui nostri device, li vediamo sulle piattaforme. Purtroppo c'è la pirateria che va sconfitta. Non ci dobbiamo abituare all'idea che fruire di una partita di calcio, di un film, di un altro spettacolo in maniera illegale sia indifferente. Fa sparire posti di lavoro. Frega il lavoro a tante persone per bene. È una cosa seria. Però alla fine, questo numero grande, 2% delle visioni di un film sono al cinema. Ma questo 2% è enorme perché le visioni di un film sono le persone che vanno fisicamente al cinema in un anno, sono più numerose di tutti quelli che vanno a teatro, all'opera lirica, a un concerto, agli altri spettacoli, al calcio, sommati insieme. Quindi è un fenomeno di massa, un fenomeno popolare ed è un fenomeno che ancora riguarda moltissimo i giovani. Nelle sale ci sono tanti ragazzi, non solo noi, grandi di età, appassionati cinefili o comunque che amiamo vedere quello spettacolo al buio. Racconto solo questa. Quando mio nipotino l'ho portato per la prima volta, avevo avuto tre anni, in una sala cineautografica, io l'ho fatto entrare, mi ha guardato e mi ha detto, nonno, ma perché lo schermo è così grande? Mai visto così. Eppure adesso, come dire, grazie anche alle nuove tecnologie, come sapete si sono moltiplicate le possibilità di fruizione di un film, siamo andati proprio per strada, abbiamo scelto una città a Napoli per chiedere alle persone come guardano i film e in che modo e soprattutto dove. Eccolo le loro risposte. L'evergreen di vedere un film seduto sul divano covotamente con la propria moglie e magari mangiare delle patatine o dei popcorn, quello è un classico. Io ho tutto in streaming. Quasi sempre satellitare. Di solito i film li vedo in tv, però i film buoni, di qualità, come piace, cinema. Ho una bimba, quindi con regolarità andiamo al cinema. In televisione, sì sì sì, in televisione, sul divano quando si riesce si è più comodi e meglio. Per lo più il cellulare in realtà. Quello che preferisco è andare al cinema, perché c'è la possibilità di scegliere tra i film migliori. Un film visto a cinema è totalmente diverso da quello che uno può vedere a casa. Beh, la scelta è sicuramente varia, le nuove tecnologie su questo aiutano. Dal proprio telefono è possibile proiettare, anche legalmente, questo lo specifichiamo, un film. Cosa, come cambierà? E' stato molto interessante. Purtroppo tutti noi, diciamo, usiamo in questo caso il plurale, ma non diciamo mai che facciamo qualche volta una fruizione pirata. Di là del fatto che io non la faccia, però mettiamoci insieme tutti noi italiani, evitiamolo. Ed è un danno concreto. Perché è veramente un sostegno alla criminalità, all'economia illegale, ma soprattutto, ripeto, è qualcosa che fa perdere posti di lavoro. E a proposito di posti di lavoro, proprio per capire qual è l'industria nel nostro paese del cinema, guardate con noi questi dati, li commentiamo insieme con il presidente Rutelli, che fotografano un pochino la situazione attuale, o meglio, quella in realtà a fine 2018. 93 milioni di presenze, circa 584 milioni di euro di incasso, e ancora, un aspetto interessante nel prossimo, riguarda la produzione, cioè quanto di italiano c'è anche nel cinema, l'aumento, la crescita delle produzioni e coproduzioni italiane. Presidente Rutelli, l'ANICA, sappiamo, rappresenta l'industria italiana del cinema, dell'audiovisivo, parliamo di 75 anni comunque di storia. Le chiedo però, lei che è stato anche ministro della cultura, che cosa oggi si potrebbe fare per sostenerle ancora di più? Macron, nei mesi scorsi, ha annunciato un fondo speciale, aggiuntivo, per l'industria del cinema, ma non per aiutare a fare dei film, per andare a comprare le aziende di altri paesi. Oggi, insieme alle altre industrie culturali e creative, cinema e audiovisivo sono determinanti per una nazione, per la sua identità, per la sua storia, per ciò che vogliono raccontare gli autori creativi della nostra società, alla nostra società, però è anche un grande business, ovvero sia è un'opportunità di lavoro. Il cinema e l'audiovisivo danno più lavoro a giovani e donne degli altri settori. Hanno il secondo valore aggiunto di tutti i settori industriali, dal punto di vista degli investimenti e del ritorno economico. Quindi una cosa importantissima, se noi perdiamo questa industria, abbiamo perso non solo l'immaginario della storia del nostro cinema, ma perdiamo qualcosa di molto più grande. Quindi sostenere il cinema, non in modo assistenziale, perché il cinema moltiplica questi investimenti, ma in modo mirato, utile, strategico e interesse del nostro paese. Penso anche alla tax credit, al credito dell'imposto agevolato, ma dall'altra anche, abbiamo visto sempre più spesso, tante istituzioni territoriali organizzarsi per sostenere nel proprio territorio, agevolando dunque la produzione. Questo in altre parole significa che si crede, che basta come in realtà succede anche per la televisione, lo vediamo anche nel cinema, che sia da cornice un certo luogo, una certa città, per diventare poi anche una meta turistica. Io questo l'ho sperimentato nella mia vita pubblica. La prima film commission d'Italia l'abbiamo istituita a Roma, nel comune, negli anni 90, si chiamava Ufficio Cinema, per facilitare che si girasse nelle strade, nelle location, negli scenari fantastici della capitale. Il tax credit l'ho istituito io da ministro nel 2008, perché è consapevole che bisognava rafforzare la componente industriale, produttiva, oltre che quella creativa, in cui siamo fantastici. Lo dico a chi ci ascolta, l'Italia è il paese al mondo che ha vinto più premi Oscar dopo gli Stati Uniti. E li ha vinti non solo per i grandi maestri, li ha vinti per i mestieri, le professioni, scenografi, costumesti, magia delle luci, e così via. Quindi è un'industria, ed è un'industria che noi dobbiamo sostenere nei territori. Se qualcuno qualche anno fa avesse detto, chiudiamo gli occhi, diciamo 15 anni fa, il nuovo film di 007 verrà girato a Matera. Ma come a Matera? Matera è la città dei Sassi, Matera veniva definita la vergogna d'Italia. Invece è una città che risorta con l'orgoglio della sua storia, della sua cultura, non solo con i film girati, Pasolini, gli altri nel tempo. Vangelo II Matteo, ma al di là di questo, la storia di quella città è una storia di riscatto, e oggi i calcoli sono stati fatti, e che soltanto girare 007, attraverso la Film Commission, della Basilicata, l'impegno di tutte le regioni per attirare serie televisive, film, pubblicità, ed altri eventi audiovisuali nel territorio, solo a Matera questo avrebbe portato 12 milioni di euro di beneficio al territorio, alla ricchezza locale, all'occupazione locale. Quindi è un mondo che cambia, di questo mondo dobbiamo essere orgogliosi, essendo parte del cambiamento. Quindi non solo un grande polo produttivo, pensiamo per esempio a Roma, la storia che ha avuto, ma dal punto di vista appunto del territorio, fare in modo che lo stivale sia accogliente, anche preparato da un punto di vista organizzativo, a ospitare tutto questo. Tra poco ci collegheremo in diretta. Sottolineo che ad esempio la Cineteca di Bologna è una realtà formidabile dal punto di vista tecnico, i grandi restauri, a Milano c'è una novità importantissima, a Napoli, come abbiamo visto, si girano tanti film, in Puglia, in Trentino, in Sicilia, in Piemonte, in tutta l'Italia, in Toscana è una realtà importantissima, Roma resta, il Lazio, il territorio, con la massa critica e le professionalità più elevate, e anche questo ovviamente va tutelato. Tra poco, dicevo, ci collegheremo in diretta con la festa del cinema, proprio di Roma, ma prima diamo alle 21.02 un altro sguardo ai titoli dei TG della Sera. Eccoli, e parleranno anche di cinema. Sciopero capitale, servizi scadenti e lavoratori a rischio, venerdì 25 ottobre, la mobilitazione generale indetta da CGL Cisle Will contro il degrado di Roma e la sorte delle aziende municipalizzate, prevista l'adesione di diversi partiti e delle associazioni dei consumatori, non era mai successo. Nel nord-ovest, piogge torrenziali ingrossano i corsi d'acqua, Milano allagata, sotto osservazione il Seveso, scuole chiuse in molti comuni della Liguria, allerta arancione anche in Piemonte. Alla festa del cinema di Roma, The Irishman di Martin Scorsese, nel cast al Pacino, Gio Pesce e Robert De Niro, killer di mafia, che attraversa 50 anni di storia americana. Un film sul tempo, dice il regista, e sul prezzo da pagare per le proprie azioni. Roma, ma il tempo è festa del cinema, presidente? Roma, monnezza, vuole dire, cioè le stagioni di Lel. No comment. No commenta? Col suo passato da sindaco. E l'ho fatto, io ho fatto il sindaco e tutto sommato abbiamo dimostrato che senza avere più soldi, senza avere trovato una situazione particolarmente brillante, non è che non ci fosse stata Tangentopoli, e come all'inizio degli anni 90, però lavorando in tanti e in squadra. Ecco, se lei chiude gli occhi e ripensa a Roma il 2000, io ho finito il gennaio 2001, il mio mandato era pulita. E non era pulita perché qualcuno arrivava con gli elicotteri o con i droni a pulirla, perché funzionavano i servizi. Lo dico sommessamente, ma anche con l'orgoglio di una città che può essere governata se non c'è l'uomo solo al comando. Ecco, faccio solo un commento politico. Secondo me uno dei grandi difetti di oggi della vita pubblica è aspettare il salvatore della patria. Non c'è nessun salvatore della patria in condizioni difficili e complesse. C'è solo il gioco di squadra, l'onestà, la competenza, la determinazione. Poi se possono fare sbagli, ci si può correggere, si deve ascoltare le critiche, ma se non c'è una squadra le situazioni complesse regrediscono. La replica che qui non c'è, la devo fare io, è una realtà molto complessa ovviamente e anche di lobby con i loro interessi che si fanno sentire. Sì, insomma, ci sono sempre state e vanno combattute, però vanno combattute con efficacia, non solo dicendo che è colpa di qualcun altro. Allora, questo ci consente da, come dire, quel titolo... Questo vale per tutte le città italiane. Certamente. Per tutte le città. Io direi da quel titolo sui rifiuti ai riflettori invece del bello di quando si presenta appunto proprio su una red carpet vedere anche l'eccellenza internazionale rappresentata... Io sto qua da voi, stasera niente Irishman, sono venuto... È vero, grazie per aver rinunciato perché adesso ci colleghiamo invece in diretta. Allora, rivedrò dopo. Avrà modo? E con Fabio Falzone che si trova proprio sulla red carpet della festa del cinema di Roma. Oggi è stato il giorno di The Irishman con Martin Scorsese. Fabio, ben trovato. Diceva il presidente Rutelli che ha rinunciato per essere qui con noi. Questo lo apprezziamo senza dubbio. Perché meritava questo film? Che giornata è stata, Fabio? E poi c'è anche una dichiarazione importante della grande regista statunitense. Allora, è stata sicuramente una giornata piena di notizie, una giornata assolutamente entusiasmante qui alla festa di Roma. Intanto alla proiezione questa sera di The Irishman è venuto anche il presidente Mattarella. Saluto tutte le amiche e gli amici di TV2000 che ci seguono. Saluto Francesco Rutelli che è un amico del cinema e che incontriamo spesso e volentieri a proiezioni e anche ai festival. Questa festa in questi giorni non è un festival, è una festa. Ha funzionato molto bene perché ha portato tutti i sapori del cinema. Quindi abbiamo avuto dalla famiglia Adams al cinema decisamente d'autore. Oggi un po' la ciliegina sulla torta è stata questa presenza di Martin Scorsese per The Irishman. Non solo perché è un bel film, è probabilmente uno dei migliori di Scorsese degli ultimi anni, ma perché ha aperto e si collega a quello di cui stavate parlando anche voi in studio questa sera, ha aperto una questione importante perché il film è targato Netflix e quindi dopo il caso di Roma, film che è molto piaciuto, che ha vinto grandi premi, che è passato in sala ma che poi è andato direttamente su Netflix, anche questo The Irishman si muove nella stessa direzione. È una storia di mafia ma affronta un arco temporale molto ampio di diversi decenni, quindi ci sono grandi mutamenti dei protagonisti come De Niro e Al Pacino e allora ha spiegato Scorsese incontrando proprio la stampa io tutto questo senza Netflix non l'avrei potuto fare perché mi hanno fornito un budget di 160 milioni di dollari che nessuno studio mi avrebbe potuto mettere a disposizione in questo momento e soprattutto mi hanno dato una grande libertà creativa quindi ha detto Scorsese è molto importante che il cinema si continui a fruire in sala però questo non è soltanto l'unico mezzo l'unico modo il film può essere fruito anche sul telefonino anche sull'iPad anche su Netflix quello che conta è che i film si continuino a fare e poi ha concluso certo al cinema gli esercenti privilegiano di più i film che piacciono ai ragazzini con supereroi volanti eccetera io voglio continuare a fare il mio cinema e dividerlo con il numero maggiore di persone possibile quindi probabilmente questa è la strada grazie Fabio Falzone buon lavoro a presto Cesc Rutelli abbiamo riflettuto da una parte dunque di come cambia la fruizione ma anche la produzione grazie a questi nuovi schermi digitali Netflix è una realtà importante voi questo lo notate? è una realtà ed è una realtà positiva non c'è mai stata tanta domanda anche perché i prodotti possono essere fruiti in ogni parte del mondo o almeno dove non ci sia la censura e dove ci sia una reale apertura al pluralismo e la libertà espressiva diciamo che l'arrivo di Netflix è stato un fatto positivo e che Netflix deve far parte di questo ecosistema accettando delle regole di trasparenza e anche di fare degli investimenti importanti si sono impegnati a farlo ho incontrato varie volte i capi di Netflix Redustings e gli altri suoi vice proprio per fare in modo che siano favorite le produzioni italiane che ci sia attenzione al mercato italiano ma anche alla creatività italiana vedremo sono positivo anche Netflix fa parte di questo panorama il prossimo come sappiamo è Amazon forse il prossimo sarà Apple si diventa anch'essa Apple produttrice di contenuti a livello globale Disney sta creando un'aggregazione colossale tutti questi enormi cambiamenti lo stesso avvenuto per Universal Fox abbiamo avuto Sky delle concentrazioni di tipo nuovo potentissime importante per l'Italia è di non rimanere troppo piccoli quindi affermare i nostri contenuti in cui siamo bravissimi sono bravissimi quindi a ragione Scorsese il film va visto al cinema perché è il posto più bello ma può essere fruito dappertutto ed è una meraviglia che la tecnologia ci regala se poi investono 160 milioni beh certo è difficile trovare produttori italiani per fare un film su Hoffa con un investimento di questo genere quindi ben venga in questo caso Netflix allora in chiusura la buona notizia torna all'interno del Festival del Cinema di Roma l'appuntamento con i palcoscenici rinchiusi si parla cioè delle condizioni delle persone che vivono in carcere una bellissima carrellata quindi di pellicole che dal 1955 affrontano questo tema fa parte dunque dell'auditorio del carcere l'auditorio del maxi notizie abbiamo preso da redattore sociale noi chiudiamo ringraziando Francesco Rutelli per essere stato con noi grazie davvero grazie buon lavoro grazie seguiremo se avrà modo poi di tornare magari anche in futuro fino a giugno siamo qui anche per aggiornarci sulla salute del cinema italiano just